Carrescia, Giammanco, onorevole Carrescia, perfetto, votazione chiusa. La Camera respinge. Siamo al 32. Relatore. Pareri tutti contrari. Onorevole Pini. 32.1 favorevole, 32.2 favorevole. Governo. Parario. 32.1, contrario a Commissione di Governo, favorevole relatore di minoranza, votazione aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 32.2 favorevole, relatore di minoranza, contraria a Commissione di Governo, votazione aperta. Gribaudo. Dichiaro Realacci, Sbrollini, Bonafide. Onorevole Sbrollini ha votato? Votazione chiusa. La Camera respinge. Siamo all'articolo 32. Votazione aperta. Caso. Guidesi. Altri? La votazione è chiusa. La Camera approva. Siamo all'articolo 33. Relatore. Pareri contrari, Presidente. La ringrazio. Onorevole Pini. Sono tutti i suoi. Niente, nessuna soddisfazione da parte del relatore di maggioranza. Non ci offre sorprese. No, ma guardi, è una cosa disarmata.